I miei amici del magnifico castello di Perceto, un luogo meraviglioso e incantevole che fu la signoria di Rossi e qui vi nacque il conte Pier II Maria dei Rossi. Il feudo fu poi ereditato da suo figlio Beltrando. Nel 1331 fu affidato dal re di Bohemia a Rolando Pietro Marsiglio e Pietro Rossi. Un castello fantastico, imponente e venite tutti a Berceto a vedere. Ciao, a presto e alla prossima!